Appassionata che ha fatto della passione un lavoro, Patrizia Polito che parla della Paz. Buongiorno, sono Patrizia. Allora, veramente incredibili le coincidenze della vita perché sentire parlare di passione adesso mi ha fatto veramente tornare indietro negli ultimi anni della mia vita dove ho messo in piedi l'impresa alimentare domestica. Le coincidenze poi del freelance camp sono incredibili. Io ho parlato della mia impresa che ho aperto nel 2015, ne ho parlato al freelance camp di Marina Romea pochi mesi dopo aver inaugurato la mia attività. Adesso a distanza appunto ormai di tre anni volevo raccontarvi che cosa è successo, quali sono state le evoluzioni e il perché io ho pensato e vi sto dicendo che l'impresa alimentare domestica può essere un laboratorio di impresa. che ha molto a che fare con la passione, perché tenete conto che io ho cominciato questo tipo di attività per hobby, mi piace cucinare, mi sono appassionata ai lieviti, ho cominciato a fare il pane e tutti i grandi lievitati. Ma io prima facevo l'impiegata, mi occupavo di comunicazione, quindi un lavoro che non ha nessun legame diretto con quello che sto facendo adesso. Allora, intanto vi spiego che cos'è l'impresa alimentare domestica, perché già qualcuno in pubblico prima mi chiedeva ma non ho capito bene che cosa sia. Allora, l'impresa alimentare domestica o anche il laboratorio alimentare domestico è un'attività artigianale, regolarmente registrata, che permette di preparare nella cucina di casa propria prodotti alimentari che sono poi destinati alla vendita. Tutto questo si può fare grazie a un regolamento europeo e si può fare in maniera del tutto legale. E qui ci possiamo anche ricollegare al discorso di Laura Rubini sul nero, eccetera, eccetera, che questo è un tipo di attività che, come ben sappiamo tutti, molte persone fanno in nero. Aprire un'impresa alimentare domestica, tra le tante cose, significa anche far emergere il nero, lavorare in libertà, poter fare pubblicità, eccetera. Stiamo parlando di un'attività imprenditoriale perché tante volte il fatto che sia casalinga o domestica può indurre un errore. Dice, vabbè, la faccia, fa torte a casa, io faccio torte bambini. Sì, però ho aperto un'attività imprenditoriale perché il titolare della IAD esercita professionalmente un'attività economica organizzata, perché per fare questo lavoro comunque ti devi organizzare, non c'è niente da fare. Il cui fine è ovviamente di produrre dei beni e dei servizi, possibilmente del fatturato e quindi un utile. Quindi stiamo sicuramente parlando di un'impresa domestica, micro-impresa, ma stiamo parlando di impresa. Questa è importante perché tante persone un po' pensano che sia sufficiente amare la cucina o saper cucinare. No, bisogna avere anche delle attitudini imprenditoriali. Sappiamo tutti che appunto aprire un'impresa non solo domestica, ma aprire un'impresa in generale, fare il freelance anche, quindi avere comunque un'attività professionale, significa seguire un percorso strutturato, organizzarsi, quindi individuare il target, produrre un bene e un servizio, organizzare tutta la produzione, nel mio caso devo organizzare le materie prime, il personale, eccetera, eccetera, e poi realizzare un profitto. Quindi l'attività, anche l'attività domestica, deve seguire per forza di cose questo processo, non esula, il fatto che avvenga nelle mura domestiche non ci esime dal seguire quelle che sono le regole generali del business. Non c'è niente da fare. Qual è il vantaggio, se vogliamo, tra un'impresa alimentare domestica è un qualsiasi esercizio commerciale di somministrazione, anche piccolo. Il modello di business che noi possiamo mettere in campo con l'impresa alimentare domestica è un modello che è potenzialmente replicabile e scalabile. Quindi se noi ci organizziamo bene e lo pensiamo già in un'ottica un po' più, come dire, di largo respiro, possiamo sicuramente pensare di strutturare la nostra produzione in modo tale che poi, una volta avuto successo, possiamo replicarlo in una scala più ampia di quella di casa o poi vediamo come può avvenire tutto questo. E il vantaggio, dicevo, qual è di fondo? Non solo che è un modello replicabile e quindi scalabile, ma che soprattutto io posso fare questa sperimentazione ed ecco perché io parlo di laboratorio di impresa, con un processo strutturato in tempi molto rapidi e a basso costo, che è un vantaggio incredibile perché nel momento in cui io devo aprire una qualsiasi attività di somministrazione, bar, ristorante, gelateria, pasticciera, quello che si vuole, io ovviamente devo mettere in campo tutta una serie di investimenti inevitabili, no? Cioè l'impresa deve trovare una sede, devo pagare l'affitto o comperarlo, se me lo posso consentire, perché no? Ho delle spese di gestione che sono differenti da quelle di casa, chiaramente, no? Le utenze, le insegne, i rifiuti, eccetera, eccetera. L'acquisto degli arredi, il personale, io qui non ho messo tutto quello che serve, ho fatto delle esemplificazioni ovviamente. Con l'impresa domestica cosa accade? La sede, ci abitiamo, è la casa. L'affitto, se lo paghiamo, che è quello di casa, è quello di casa, e rimane tale. Se è casa nostra, meglio ancora. Le spese, diciamo, sono comprese, perché i rifiuti comunque li paghiamo tutti, corrente, gas, luce, acqua, forse aumenteranno un po', ma acquisto degli arredi, la cucina di casa nostra normalmente è arredata. Ecco. Il personale, io che sono me, cioè, normalmente, devo dire che almeno, fino ad oggi, tutte le imprese domestiche che sono aperte da persone singole. È possibile aprirlo anche in società, ma sono pochissime. Quando abbiamo cominciato nel 2015-16, eravamo una trentina, adesso siamo circa 120, ma di società ce ne sono veramente poche, forse uno o due, non di più. Quindi è chiaro che nel momento in cui io devo, sì, magari, modificare alcune cose dentro casa mia, perché ci sono, ecco, c'è necessità di avere i rubinetti fatti in un certo modo, magari dovrò acquistare, non so, un'impastatrice o un forno un pochino più performante, però è chiaro che, salta l'occhio, che qui stiamo parlando su un'impresa tradizionale di qualche decina di migliaia di euro e sull'impresa domestica qualche migliaia di euro. Cioè, 20, 30, 40 mila da una parte e 4, 5 mila dall'altra. Quindi è evidente che, diciamo, l'investimento è decisamente minimo. E l'altro vantaggio qual è? L'interazione immediata con il mercato, perché io, nel momento in cui, dentro la cucina di casa, mi organizzo, penso, voglio produrre, mettiamo biscotti, ok? O pane, nel mio caso. Faccio la mia produzione di pane, mi organizzo, individuo il mio target e posso immediatamente fare una prova sul mercato. Cominciare a farmi pubblicità, andare sul mercato e vedere qual è il feedback che io trovo dai miei clienti. Se apprezzano il tipo di prodotto, se va bene il tipo di produzione che faccio settimanale, o no, forse è meglio che la faccio nei tre giorni, se preferiscono avere la consegna a domicilio, o anziché no. Insomma, tutte quelle che sono le attività, ovviamente, che mi permettono di entrare in comunicazione diretta con il mio mercato. E questo mi consente, avere il feedback, ovviamente, con tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato qui, che hanno parlato Alessandra, eccetera, quindi bisogna comunque per saper utilizzare social, mail, eccetera, avere un ritorno di quello che sono gli early adopter, cioè le persone che comunque rispondono in immediato e quindi vedono un entusiasmo, magari, nel mio prodotto e quindi diventano per me fondamentali per cercare di capire cosa va bene, cosa non va bene, cosa devo aggiustare, eccetera. Quindi, vantaggio, che io nel giro di pochissimi mesi, pochissimi mesi, perché da quando io ho tutte le autorizzazioni a quando io posso fare il prodotto possono passare due, tre, quattro mesi, ma non tanto di più, accelulo immediatamente il processo di apprendimento sulle dinamiche, appunto, di quello che è il mio mercato e questo mi consente di individuare delle soluzioni, di aggiustare il tiro, dire, ok, no, come l'ho pensata non è giusto, perché in realtà non mi chiedono i biscotti, di avena, mi chiedono i biscotti di segale, dico per dire, ecco. E quindi, ovviamente, è un vantaggio, perché io, il mio processo l'ho accelerato in maniera molto veloce. Questo permette di, ovviamente, sperimentare nuove soluzioni, perché se il mio prodotto va bene, io posso incrementare, dire, ok, ho sperimentato il prodotto A, il prodotto A funziona benissimo, replico, come dicevo all'inizio, il mio prodotto su altre cose e faccio un altro test e vado avanti. Oppure, dico, no, va benissimo così, sono contenta del risultato che ho ottenuto, però invece che produrre 10, decido che voglio produrre 100. e quindi a questo punto io produco in larga scala magari un unico prodotto o due prodotti e vado avanti tranquillamente in questo modo. Quindi, sostanzialmente, oh, oh, ecco, sono tornata indietro invece che andare avanti. Allora, tutto questo, in realtà, mi ha ricordato un po' anche della mia esperienza, mi sono dimenticata e di dirvi una cosa anche importante. Da quando io ho aperto non ho soltanto la mia esperienza diretta come titolare di impresa alimentare domestica. Io nel 2017, insieme ad altre mie colleghe, ho fondato un'associazione che si chiama IAD Italia e che rappresenta le imprese alimentari domestiche con le quali noi aiutiamo le persone che vogliono aprire e ovviamente facciamo rete e siamo di supporto a chi invece l'impresa domestica ce l'ha già e vuole ovviamente tenersi aggiornato perché comunque le normative cambiano di frequente, eccetera. Quindi questo mi ha consentito di avere uno sguardo anche molto ravvicinato non solo sulla mia esperienza ma avere diciamo un parterre ovviamente dal quale ricavare delle informazioni che poi mi sono state utili per pensare appunto al discorso dell'impresa alimentare domestica come un vero e proprio laboratorio di impresa perché il fatto di avere quindi in realtà mi sono ricordata poi avendolo studiato prima che è un po' un metodo che assomiglia a quella che era lì in start-up non so se qualcuno di voi ha già sentito che in questi dieci anni si è sempre parlato di start-up ma siccome i puristi del tema avrebbero da ridire sul fatto che una impresa domestica sia una start-up perché non è digitale certamente innovativo non so se produrre prodotti da forno o cose sia innovativo no è il processo secondo me che è innovativo probabilmente quindi io invece che start-up l'ho chiamata laboratorio di impresa perché si impara a fare impresa facendo questo ed è proprio questo un procedimento in cui il prodotto e il servizio è sviluppato con minori costi possibili e abbiamo visto che questo si fa perché l'investimento sono poche migliaia di euro e con le caratteristiche sufficienti ad essere testato velocemente sul mercato perché io posso arrivare in tempi molto rapidi a validare il mio prodotto e quindi a riprodurlo come dicevo prima o in larga scala oppure a pensare di fare della sperimentazione in più e di aggiungere magari quelle che sono considerate delle future in realtà sono delle aggiunte su nuovi prodotti quindi riprodurre esattamente il modello che io avevo individuato prima e questo secondo me è un modo molto interessante perché è un modo pragmatico molto pragmatico di questa è diciamo la proporzione che io ho fatto la start up in realtà io l'ho chiamata laboratorio di impresa e quello che nelle start up viene considerato il famoso minimum viable product in realtà è la IAD cioè l'impresa alimentare domestica proprio per la sua caratteristica di essere anche una micro impresa consente di fare tutto quel processo che normalmente viene fatto per le famose start up ma viene fatto in maniera pragmatica cioè tu metti veramente le mani in pasta e impari che cosa significa creare un prodotto e mettere un prodotto sul mercato che cosa significa interagire con i clienti quali sono i processi i procedimenti di cui io mi devo occupare perché poi tra l'altro le ripeto il titolare della IAD siccome normalmente è una persona singola questa persona singola deve avere per forza in mente il processo dalla A alla Z e solo nel momento in cui ha consolidato il suo percorso può sicuramente pensare di farsi aiutare chiaramente da qualcuno questo non lo impedisce nessuno però hai l'idea molto chiara che tu ti devi occupare da lavare i piatti no? cioè lavare le attrezzature che utilizzi per cucinare a lavorare il prodotto a confezionare il prodotto a vendere il prodotto a farti pagare cioè ci sono tutti gli elementi che servono a un imprenditore per diventare imprenditore o perlomeno a una persona per imparare che cosa significa fare impresa ed è un sistema che secondo me funziona se ne è andato qua vabbè niente non ci posso riuscire non ci riesco vabbè quindi in realtà io quello che vi volevo appunto trasmettere era proprio questo che l'impresa alimentare domestica è sì un'attività che sicuramente diciamo nata dalla mia passione sia trasformata in un lavoro ma che può diventare anche per altre persone un modo effettivamente pragmatico e vero e reale per imparare a fare proprio impresa ed è un augurio che io faccio perché tante persone mi chiedono come fare come non si fa come non si fa ecco si può fare si può fare d'accordo grazie se avete bisogno io sono qua